Benvenuti, dopo il video parleremo di una grande novità, Film is Now vi farà la festa. Adesso. Sei lei. Ci puoi giurare, fratello. Quello è un dieci. È molto di più di un dieci. Oh mio Dio, mi stai dicendo che ti sei innamorato. Sto uscendo con una. Oh, santo cielo, santo cielo, come si chiama? Perché hai accettato di vedermi? Dovrei aspettare per scoprirlo. Ho tanto tempo. Mi piace, sei carino. Ah sì? Sì. Vuoi che ti dica la verità? Tu sei la cosa più bella che abbia mai visto in vita mia. Ti piacciono i film? Non sono il tipo che guarda i film. La donna carina e l'uomo carino che corrono in macchina verso il tramonto. La gente sa che sono finti. Adoro questo genere di film. Ah, bellissimi, sì. Ma li guarda come se la vita fosse davvero così. Amore! Che stai facendo? Leggevo la posta. No, tu guarda... Mi ha beccato a guardare un porno. Tutto qui. Già. Perché guardi quella merda? E tu perché guardi quegli stupidi film? I film e la pornografia sono due cose diverse. John danno persino dei premi ai film. E per questo li danno anche ai porno. Dicevo, ci sono poche cose nella vita che mi interessano veramente. Non lo so se voglio una moglie e dei figli. Guarda che fa. Io ho l'aspetto di una nonna ormai, ma ho forse qualche nicotino? Se ti vuoi perdere veramente, devi farli in un'altra persona. È una cosa a doppio senso. Credevo fossi diverso. Forse è ora di provare qualcosa di nuovo. Come vi anticipavo prima, per tutti i nostri iscritti abbiamo un interessantissimo evento. Il primo novembre, data non casuale, uscirà sul nostro canale in esclusiva La Festa. Un film indipendente e sperimentale di Simone Scafidi, pensato per la rete, proprio per abbattere confini territoriali e soprattutto censure. Protagonisti del film sono dieci ragazzi che organizzano una festa nella villa in collina di uno di loro. L'irruzione nella casa di quattro adulti estranei sottopone i partecipanti ad un macabro gioco ad eliminazione, ripreso per intero da uno del gruppo e consegnato ai genitori alcuni mesi dopo. Le riprese, pensate, sono state realizzate in soli dieci giorni, girando in sequenza dal tramonto all'alba, sottoponendo agli attori, per lo più esordienti, ad una dura prova professionale ma anche emotivamente creativa. Il film sarà visibile gratuitamente, solo ed esclusivamente per voi, per i nostri iscritti, in dieci puntate assolutamente da non perdere. Ovviamente invito chi ancora non l'avesse fatto a iscriversi al nostro canale per non perdere la possibilità di seguire questo evento che sta già riscuotendo molto interesse e molto successo tra i social network. Grazie per averci seguito e mi raccomando partecipate anche voi alla festa. A presto!